Ciao amici di MyFootballJersey, oggi vedremo insieme una maglia che abbiamo già visto, la seconda maglia del Manchester United per la stagione 22-23, ma in edizione player, quella indossata dai calciatori. La maglia Away Alidas Manchester United 22-23 combina il colore principale bianco con applicazioni rosse e nere. Alidas opta per una tonalità di colore rosso ciliegia e nero per le tre stripes, mentre il logo Alidas e il logo TeamViewer sono neri. Proprio come la divisa casalinga 22-23 del Manchester United, la divisa da trasferta ha uno stemma schermato. L'elemento distintivo della maglia da trasferta è il design a triangolo bianco e rosso sul colletto e sui polsini delle maniche. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra, la vestibilità più aderente rispetto alla versione fan, è progettata per il fisico dell'atleta. Stupenda! Avevo già recensito questa maglia in versione fan, trovate qui in alto la recensione, l'ho voluta riprendere in edizione player perché secondo me è bellissima. Nella mia classifica questa prende 5 stelle. Bellissima in ogni dettaglio, peraltro oltre a avere questo particolare del doppio colore della striscia, questo motivo sui polsini, sul collo, ha anche una trama bellissima e spero che il video abbia potuto farvela apprezzare. Il costo lo vedete qui in alto è bassissimo, come al solito direi, sul JJ Sport 24, non si sbaglia da questo punto di vista. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e dei link per poter sostenere il canale e per ricevere un coupon da utilizzare sul sito. Adesso vi lascio, come al solito, vi prego di lasciarci un like e di iscrivervi al canale per essere informati e vedere prossime recensioni in futuro. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto, 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player o autentic.